E rieccomi qui dal passion fruit alle fragole. Iniziamo a vedere dove sono coltivate le fragole. Sono circa 45.000 metri di serre e fragole. Qui accanto abbiamo la gemella, ma torniamo a noi. Io sono qui per farvi vedere che stiamo continuando il nostro tour nel raccolto delle fragole. Vi descrivo velocemente il prodotto. Fragola varietà melissa, grammi per frutto circa 80.000 metri. Il prodotto si presenta, oltre ad essere naturale, come benissimo, molto dolce e profumato. Come vedete abbiamo già raccolto le fragole che stiamo per partire, il fruit passion, e l'avocado. Rigorosamente...